E' ora sul tatami 1, per la Repubblica Islamica dell'Iran, Leila Hosseini. Abbiamo la vittoria in pugno. Vi vedi tutti bene? Ciao, campionessa. Tesoro, ciao. Ti amo da morire. E ti c'è la tutta, sei dieci volte più forte. Una chiamata per te, Mariam. Ti raggiungo. Sì, arrivo. Possiamo farci una foto, sono un tuo fan. Certo. Ciao. Leila. Papà. C'è la polizia a casa nostra. Fa quello che ti dicono e non ci saranno conseguenze per nessuno. Vogliono che ti ritiri immediatamente. Non simulerò nessun infortunio, né mi farò battere. Mettitelo bene in testa. Non è una proposta. Ti dico che la stanno minacciando per costringerla a ritirarsi. E io ti dico che non possiamo ufficialmente aiutarla se non sarà lei a chiederlo. Fa culo il protocollo. Io non mi lascio manipolare da loro. Qui penso a tutto io, sta tranquilla. Sai cosa devi fare, vero? Io andrò fino in fondo. Sei con me o no? Sei una donna forte, non c'è niente che possa fermarti. Leila non esiste più. Pensa alla tua vita, alla tua famiglia. Leila! Leila! Hosseini si deve ritirare adesso! Come si può arrivare a questo? Il mio nome è Leila Hosseini. Sono qui per vincere. Per la mia famiglia. Per la mia squadra. E per il mio paese. La mia squadra è l'unico. Per la mia squadra. Il mio paese. Il mio paese.